Con 11 milioni e 700 mila euro di ricavi ordinari, oltre 12 milioni di oneri e uno stato patrimoniale di 45 milioni di euro, il consuntivo 2014 dell'EMPA è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci riunita a Roma e evidenzia il lavoro svolto in un anno a favore degli animali, ma le risorse impiegate non danno da sole la dimensione del forte e concreto impegno della protezione animali. Nel 2014 EMPA ha accudito e curato 32 mila animali, dandone in adozione 13 mila, ha garantito 35 mila interventi, oltre ad aver promosso centinaia di eventi di sensibilizzazione e di educazione su tutto il territorio nazionale. Si consolida anche l'operatività dell'EMPA all'estero. Grazie al programma Rete Solidale, coordinato da Paola Tintori, i volontari della protezione animali hanno effettuato interventi in Italia, ma anche in Bosnia e Herzegovina, Albania, Romania e Spagna. Uno dei dati positivi emerso dal bilancio e dal connesso bilancio sociale è la rinnovata collaborazione fra le sezioni del nord e quelle del sud, una collaborazione che ha permesso di risolvere emergenze e favorire le adozioni, grazie anche al supporto logistico e operativo dell'Unità di Intervento Nazionale, coordinata dal Servizio Guardie Zoofile, guidato da Antonio Fasci. Il 2014, ha spiegato il tesoriere nazionale Sergio Sellitto nella sua relazione, è stato per EMPA pieno di iniziative, di progetti avviati e portati a termine, un anno ricco di aiuti e sostegno al mondo animale. Tutto questo garantito da migliaia di volontari attivi nelle oltre 170 sezioni e da più di 200 dipendenti, l'82% a tempo indeterminato, più di due terzi donne, età media dei lavoratori di 40 anni. È cresciuta la base sociale, con un incremento del 4% dei soci nel 2014 rispetto all'anno precedente. È cresciuto l'importo del 5 per mille, EMPA è fra i primi 35 enti beneficiari del contributo. È aumentata la capacità di comunicare, oltre a migliaia di uscite sui media, va considerata la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie ottenute gratuitamente per un controvalore di 2 milioni e mezzo di euro. La pagina Facebook ufficiale di EMPA inoltre ha superato i 700 mila like. Lo scorso anno, inoltre, come ha spiegato il responsabile del Centro Comunicazione e Sviluppo, Marco Bravi, nella sua presentazione del bilancio sociale, sono state distribuite gratuitamente alle sezioni oltre 1100 tonnellate di pet food. Tutti i meriti di una organizzazione capillare moderna, che sempre più è proiettata verso il rafforzamento della collaborazione fra le sezioni e verso l'estero, pronta quotidianamente a fronteggiare e reprimere tramite le sue guardie zofile reati contro gli animali. È in grado, inoltre, di intervenire prontamente a favore degli animali nell'emergenza e nelle calamità naturali, come è successo per i terremoti in Abruzzo e in Emilia Romagna e in occasione di diverse alluvioni. EMPA si occupa di randagismo e di animali da compagnia, senza tralasciare la cura di esotici e di selvatici, senza trascurare le battaglie per l'ambiente, contro la caccia, per la tutela della biodiversità, attenta alla formazione interna dei propri operatori e alla progettazione di efficienti strutture per animali. È un'organizzazione, ha affermato la Presidente nazionale Carla Rocchi, forte e in salute, che ha dimostrato di essere efficiente nella sua azione quotidiana e di superare problemi interni. La più grande ricchezza di EMPA resta il suo volontariato appassionato, convinto e determinato, la sua progettualità, la sua visione del futuro, la sua dedizione agli animali. Prima dell'approvazione del bilancio, già adottato lo scorso aprile, l'Assemblea di Roma ha votato modifiche statutarie relative alla modalità di convocazione dei soci e al Collegio dei Revisori dei Conti e ha approvato due mozioni. La prima contro l'ipotesi di armare gli agricoltori per uccidere i cinghiali. La seconda, in vista della conferenza sul clima di Parigi, impegna l'Associazione a proseguire il lavoro di sensibilizzazione dei cittadini per l'adozione di stili di vita con un'impronta ecologica sostenibile, anche sotto il profilo etico, e a proseguire la pressione sulle istituzioni affinché la questione dell'industria della carne e della correlazione con il global warming entri ufficialmente nell'agenda politica del nostro Paese.